bella a tutti raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi non sono da solo raga e c'è il cogna finalmente conoscete il cogna proprio bene come si chiude il cogna raga è quello e quando andiamo a fare le esplorazioni registrazione quindi ora facciamo una bella partita forte e se prendiamo la corona raga siamo veramente la botta iniziamo subito ci vediamo ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo facciamo zero costruzioni via se così sì ti invito da xbox poi se tiriamo fuori qualche minchiata lo lascio nel pezzo ecco uno farai vedere ci scoppiano perché comunque lo fanno tutti le armi di iron man iron mind iron mani anzi lasciamo iron mani che mi piace obiettivo guarda 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 che c'è la per ora e no e no obiettivo almeno 10 kg a test lo sono uscito con 23 bombe prima tra iервi 33 23 24 non lo so consiglio giu nel isol e track ciao like caccia caccia caca caccia 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 33 dai dai vediamo di fare ora tutti gazzati mediamo pro fuggito ... ... ah mi sa che mi sono lanciato troppo presto scemo 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 ce n'è un altro ma questo è mio però dobbiamo andare a prendere la roba di iron mine cerco di di recuperare qualcosa di meglio perché non ci siamo proprio come sono messo bello bello ho pizzicato la torretta bello bello poi c'ho il pompa quello bello ora mi faccio una boccetta la 50 allora qualcuno è già stato qua ahia sento le braccia di qualcuno vado gioco una cosa mi ricorda lì oh a terra a terra a terra uno c'ho l'altro cazzo sono in 400 porco dio no sono a terra fra erano in tre senza l'arma in tre non riesci a sono sotto bella bella questa si ma tirami su prima un pezzo di merda ci rimango con le penne ma tu non sei andato a vendere le robe eh no era c'è l'altra ce ne sono altre va a prendere l'altra va a vedere se ci sono degli altri minchia sono proprio messo male sono senza vita sono senza un cazzo ah vieni qua vieni qua vieni qua dove stai? sono qua dietro di te fatti questi due bravo lo stavo dicendo non teno di andare di là hai le armi buone li stendi tutti quelli che si avvicinano guarda c'era uno lì guarda qua non c'è più nessuno ehi non cominciamo a bagare ragazzi eh beh lì stiamo registrando stiamo con due console due schermi ci sta ok ok eh ma con quella roba lì fre eh esagerare che cazzo c'hai da ridere io ti vedo che ti gini no ma poi vedi cosa ho fatto l'ho così combinato l'ho fatto perdere il coso c'è gente scoppialo oh cazzo c'è un altro là sopra c'è qualcosa dentro che potrebbe interessarmi allora abbiamo un paio di braccia ma non quelle di Iron Man e il jetpack mi viene bene ok dai qualcosa abbiamo non sono messo come volevo ma bene fantastico la corona fre oh avevano vini la corona vini e pierdi la corona l'hai presa? sì sì ma infatti io ce l'ho già me l'hanno buscato erano belli forti allora oh 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 cos'è chi è? dimmi dove sono? eh no mi sa che sono stato io per sbaglio allora sì no c'è qualcuno ok ok mi sa vedere la vita splash 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 ok buonissimo hai preso le mani? sì sì non quelle di Iron Man perché non ci sono chi ce l'aveva? manco quello lì eh no ora andiamo da un'altra parte c'è molta gente qua eh vabbè li facciamo tutti arrivo c'è qualcuno qua sotto ma ha fatto è fortissimo scappa perché aspetta 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 non mi fai andare l'ansia l'ho visto c'ha le mani sono in due ma non l'hai visto che eri in due le mani sono troppo importanti quelle cazzo di mani sono troppo importanti che eri in due iscriviti al nostro canale io le mani sono troppo eh ho 단